Musica La quarta ondata travolge la Calabria a quasi 1600 casi in un giorno e 22 ricoveri. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 6 decessi. Sale la pressione negli ospedali, 18 nuovi ricoveri nei reparti e 4 in terapia intensiva. Occhiuto nomina Agostino Miozzo come consulente. L'ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico supporterà il governatore commissario nella riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Collaborerà anche a fronteggiare l'emergenza pandemica. Sposato a 20-20 aderisco al PD per il lavoro e la legalità all'annuncio all'altro Corriere TV del segretario della CGL Calabria. Rientro dopo la fase renziana e sul PNRR l'appello del procuratore Gratteri deve essere preso in considerazione. Nicola Irto si candida alla segreteria del PD. L'attuale capogruppo dei DEM al Consiglio regionale scioglie la riserva come anticipato dal Corriere della Calabria. Guardo alla rigenerazione delle idee e della rappresentanza. Nuovo appuntamento con l'altro Corriere Tg. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione e da Fabio. Ben in casa, tante novità nell'edizione serale del nostro giornale. L'apertura dedicata ovviamente all'emergenza Covid. C'è un record di contagi che si registra in Calabria dall'inizio della pandemia. Quasi 1.600 i nuovi casi positivi segnalati nel consueto bollettino diramato dalla regione Calabria. Aumentano anche i tamponi, ma ciò che preoccupa è un altro dato. L'aumento della pressione sugli ospedali calabresi con i ricoveri, non solo quelli ordinari, ma anche nelle terapie intensive. Tutti i dettagli nel servizio. La quarta ondata travolge la Calabria. Quasi 1.600 casi registrati nelle ultime 24 ore e 22 ricoveri. In un solo giorno sono 6 i decessi riportati nel consueto bollettino diffuso dalla regione Calabria. Sale la pressione negli ospedali e si contano 18 nuovi ricoveri nelle parti e 4 nelle intensive. Elevato il numero dei tamponi effettuati pari a 12.777. La situazione è in peggioramento e alcuni sindaci dei centri calabresi corrono ai ripari per contenere la diffusione del contagio. A Filadelfia, da oggi e fino al prossimo 2 gennaio, numerose attività resteranno chiuse. E quanto dispone un'ordinanza del sindaco Anna Bartucca? Alla base della decisione è l'aumento consistente del numero di casi positivi, soprattutto nella popolazione giovanile. Saranno chiuse al pubblico le attività commerciali, ma dalle 20 alle 5 rimane consentito il servizio di asporto, le attività di acconciature, barbiere, estetista e tutti gli impianti sportivi comunali e palestre. Sospesi il mercato settimanale del giovedì e tutte le cerimonie, inoltre nei supermercati o nei negozi di grandi dimensioni, l'ingresso è ammesso nei limiti di una persona per famiglia e per un totale massimo di 20 ingressi simultanei. La situazione è insostenibile. Questo invece è il grido di dolore che giunge dal personale infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Giannettasio di Corigliano Rossano. Si ripropongono gli stessi problemi, denunciano i sanitari, le tensostrutture mai entrate in funzione sono state dismesse, gli ambienti continuano a rimanere promiscui, per cui giungono pazienti da ogni dove con varie patologie, ma non vengono sottoposti a tampone prima di accedere in pronto soccorso come si dovrebbe. La situazione è insostenibile. E per tamponare l'emergenza pandemica, il governatore della Calabria Roberto Chiuto, dopo l'unità di crisi Corre Ai Ripari, Agostino Miozzo, coordinatore fino al marzo scorso del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, è stato nominato nuovo consulente del governatore commissario alla Sanità della Calabria. L'incarico ad uno dei massimi esperti nel campo sanitario italiano è stato conferito con decreto dallo stesso presidente della Regione. Miozzo avrà il compito di supportare il governatore nella riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in particolare sia per quanto riguarda l'emergenza urgenza, sia l'implementazione del territorio di protocolli innovativi e di intervento sanitario anche a distanza. Ma a Miozzo ovviamente, o chiudo, chiederà supporto nel contrasto all'emergenza pandemica, all'aumento dei contagi, all'aumento consistente della percentuale di non vaccinati presenti nei reparti dei nosocomi calabresi che sono davvero in difficoltà. Dal Covid alla politica c'è un'altra sostanziale novità che è stata annunciata, anticipata quest'oggi negli studi dell'altro Corriere TV da Angelo Sposato, segretario della CGL Calabrese, che ha annunciato la sua adesione al PD. In realtà si tratta di un ritorno al Partito Democratico che lo stesso Sposato aveva abbandonato dopo la nomina segretario di Matteo Renzi. Partecipare alla vita democratica dei partiti, secondo noi e secondo me, è importante. Un'adesione a un partito non deve essere vista come qualcosa che limita l'autonomia e l'autorevolezza delle funzioni e dei ruoli che si svolgono nella vita professionale, ma deve essere vista come un ulteriore contributo che si può dare democraticamente alla vita del Paese perché in questo momento bisogna dare anche il primato della buona politica e la politica buona ha bisogno di un lavoro che si fa con sinergia. In questo momento credo che bisogna creare le condizioni perché ci sia una rigenerazione della politica, individuare anche un alveo che possa ridare ai temi del lavoro, ai temi della legalità, al tema appunto del sociale, quelle occasioni anche di discussione che in questi anni è mancata alla politica complessiva e poi alla Calabria ha bisogno di una rigenerazione, di una politica che su questi temi li affronti con un rinnovato entusiasmo e soprattutto con un ricambio intergenerazionale della classe dirigente. Un contributo molto 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 personale che vuole essere da stimolo per dire molte volte anche no quando si sbaglia e dare dei contributi costruttivi in null'altro. Il rientro nel Partito Democratico Calabrese del segretario sposato è un'ottima notizia, lo dichiara Stefano Graziano che è il commissario dei Democrat della nostra regione. Il suo apporto sui temi del lavoro, della riorganizzazione sanitaria e della progettazione delle risorse per la ripartenza, continua Graziano in una nota, sarà importante per la qualità della proposta che il nostro partito offrirà alla Calabria. Insieme a lui aggiunge, mi auguro che tanti altri vogliano approfittare di questi ultimi giorni di tesseramento per tornare a confrontarsi all'interno della nostra comunità in maniera attiva e diretta. E questa sera alle 21 la puntata di 2020, il talk politico in onda sulle nostre reti sul canale 16 del Digitale Terrestre condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro con ospite, proprio Angelo Sposato. Ancora la politica perché la rigenerazione della comunità democratica sarà al centro del confronto che verrà posto al partito in queste due settimane di campagna congressuale. Questa l'idea di Nicola Irto, attuale capogruppo in Consiglio regionale dei Dem, che ha lanciato la sua candidatura, in realtà l'aveva anticipata già al Corriere della Calabria, al congresso regionale del PD calabrese. Il Partito Democratico, dice Irto, dovrà ripartire dall'attivismo delle sezioni, dal dialogo sui temi politici e dall'innovazione democratica. E a proposito del Partito Democratico, ci spostiamo a Corigliano Rossano. C'è un matrimonio che a quanto pare sa da fare, quello che riguarda i Dem, è Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano. Le parti sono vicine e iniziano anche i primi malumori, le prime reazioni alla possibile unione, al possibile matrimonio. Su tutti Gino Promenzio, che è consigliere comunale a Corigliano Rossano, capo dell'opposizione, che punzecchia anche ai nostri microfoni il sindaco Stasi e sull'orlo del baratro dice e si aggrappa al partito. Il sindaco di Corigliano Rossano sta pensando di imprimere una svolta prettamente partitica alla sua carriera politica, fatta di pane e movimentismo, contravvenendo alla convenzione secondo cui i partiti sono il male assoluto. In vista della candidatura a presidente della provincia di Cosenza, Stasi starebbe discutendo le tappe di avvicinamento al PD direttamente a Roma, grazie ai buon uffici del sub-commissario provinciale Dem, Aldo Zagarese, suo oppositore in consiglio comunale. Mosse quelle del primo cittadino che stanno bypassando la base locale e provinciale del partito e che quindi stanno già innescando forti malumori. Il primo a iscriversi al comitato di benvenuto è il leader delle opposizioni consigliarie di civico e popolare Gino Provenzio, tesserato e già dirigente del PD. Il problema è che il sindaco dovrebbe fare il sindaco perché lo sta facendo poco e male in una città che ha bisogno di avere veramente una rivoluzione rispetto alla condizione in cui versa. Ci sono tra l'altro risposte da dare non solo ai problemi ma anche a questi malpancisti antifusione a cui va data immediatamente una risposta concreta e questo sta sulle spalle non solo del sindaco ma di tutti noi. Quindi avrebbe tante cose a cui pensare e non di passare il tempo a pensare di voler fare il presidente del Lanci, il presidente della provincia, il presidente del Lato, tutte queste cose qua che poi finiscono malissimo. È un'operazione altro che rivoluzione radicale, è un'operazione anni 80 del sindaco che si fa il pacchettino di tessere degli amici, di far tesserare in un partito, cose già viste che faranno probabilmente politicamente la fine della sua sindacatura perché questa è la condizione, è un po' triste, ci aspettavamo qualcosa in più. La pagina della cronaca, lasciamo la politica, la squadra mobile di Catanzaro ha arrestato il 69enne Giuseppe Stasi, ritenuto autore del ferimento a colpi di pistola di Roberto Sarlo di 34 anni avvenuto nella tarda serata di ieri nel quartiere Santa Maria alla periferia del capoluogo. A sparare sarebbe stato dunque il padre dell'ex compagna di Sarlo che già nella tarda serata di ieri era stato portato in questura per essere interrogato. Il 34enne raggiunto tra il collo e la mandibola da un colpo di pistola è ricoverato all'ospedale civile pugliese, le sue condizioni restano ovviamente gravi ma non è in pericolo di vita. Si rafforza dunque la tesi investigativa secondo cui il movente dell'episodio che avrebbe avuto, avrebbe potuto avere anche delle conseguenze molto più gravi sia da collegare a contrasti di natura familiare. Ancora la cronaca, qualche parola di troppo forse qualche messaggio social infuocato avrebbe dato fuoco alle polveri, acceso alla miccia che poi ha portato ad un atto di violenza inaudita, un pestaggio nei confronti di un quindicenne di San Calogero sono emersi nuovi ed inquietanti dettagli. Un fitto scambio di messaggi sui social poi degenerati in una spedizione punitiva. E' questa una delle piste eseguite dagli inquirenti che hanno avviato le indagini sul brutale pestaggio subito la notte di Natale a Paravati di Mileto da un quindicenne di San Calogero. Gli inquirenti stanno infatti analizzando le immagini dell'impianto di videosorveglianza presenti nella zona dell'aggressione e stanno vagliando il movente del brutale pestaggio. Attimi di terrore quelli visti dal giovane, attirati in una trappola da un gruppo di quaetani e è stato poi circondato mentre era a bordo della sua moto e colpito ripetutamente con corde e bastoni. Gli aggressori, probabilmente tra i 15 e i 18 anni, hanno continuato anche quando il quindicenne era a terra, sanguinante e intanto il giovane è ancora ricoverato all'ospedale Iazzolino di Vibo in condizioni stabili e anche se si sta valutando un intervento per una lesione all'occhio causata dall'aggressione. Ancora la cronaca, due persone ferite. Questo è il bilancio di un incidente avvenuto lungo la strada statale 18 all'altezza di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso d'accertamento, due veicoli si sono scontrati sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti all'ospedale, oltre alle forze dell'ordine e al personale dell'ANAS. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso in entrambe le direzioni per provvedere alla messa in sicurezza della circolazione stradale. Lasciamo la cronaca, voltiamo pagina, parliamo di rifiuti. Si registra in Calabria un consistente aumento della raccolta differenziata. Uno studio da parte dell'ARPACAL certifica i numeri che sono sicuramente incoraggianti. La produzione dei rifiuti urbani in Calabria è scesa leggermente nel 2020 fino a 715.975 tonnellate, registrando al contempo un aumento della raccolta differenziata che dal 47,23% del 2019 passa al 47,83%. Un trend positivo, particolarmente riscontrabile nei comuni di Vibo, Valencia e Catanzaro è emerso dai dati pubblicati nel report rifiuti Calabria 2021, riferito ai dati del 2020, da ARPACAL. Una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione che risponde ad uno specifico compito istituzionale. Secondo i dati, dunque, la Calabria registra un 47,83% di differenziata, con un piccolo miglioramento rispetto all'annualità precedente dello 0,60%. A segnare ottime performance sono i comuni capoluogo di Catanzaro e Vibo. Quest'ultimo, rispetto all'annualità precedente, registra un salto percentuale molto importante di 15,27%. Il buono andamento si riflette anche sulle province di riferimento. Altro discorso invece per la città di Cosenza, al 59,85% e quindi la sua provincia, 56,05% che registra un lieve calo rispetto alle annualità precedenti. Importanti criticità vanno registrate invece nell'area metropolitana di Reggio Calabria, 37,45% alla città, 32,30% all'area provinciale e nella città e provincia di Crotone, 11,98% in città e 27,01% in provincia. In questi casi continuano ad incidere i problemi all'impiantistica a supporto della gestione dei rifiuti. Finalmente una grande ripartenza. Queste le parole scelte dall'assessore regionale al turismo Fausto Orso Marso questa mattina all'inaugurazione, alla riapertura degli impianti scistici di Lorica. Lo sentiamo. Era un sogno su cui la Presidente Santelli, lo dedichiamo a lei, ha battuto tantissimo sia sul finanziamento o su un progetto SILA più complesso che vedrà poi nei prossimi anni gli investimenti ma qui hanno un problema che nel passato ha negato tanti sorrisi in SILA complicato come procedimento amministrativo Devo ringraziare tutti gli amministratori giudiziali, il gentile, Sposito Devo ringraziare innanzitutto le nostre aziende, l'Arsa, che soprattutto prima della Calabria ha fatto un miracolo, la persona dell'amministratore Arissi Vecino Martino e l'ingegnere Marcelli che ha lavorato qui anche a Natale per garantire quello che per troppe stagioni è stato rinviato con l'area cultura, un impianto di salita, un investimento importante E con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione termina qui Grazie per la vostra cortese attenzione, l'invito è sempre il solito Restate sintonizzati sul canale 16 del Digitale Terrestre Grazie ancora per averci scelto Grazie a tutti